Quando giocavo io non c'erano le televisioni, la mobiola, non c'erano lei e riuscivi magari a fare anche qualche scorrettezza. Adesso sanno che c'è la televisione, che c'è la prova delle televisive e tutto, deve un attimino essere anche un po' più scaltro e più... Maran vedrai che farà la sua carriera, non sarà neanche, io mi auguro che sia l'ultimo esonero, ma non sarà l'ultimo come tutti gli allenatori. Gigi, come la salviamo sta partita? Eh, così, guarda. E la vecchia farmacia? Sì, la farmacia. Chi sbaglia paga nella vita, io quando ho sbagliato nella vita ho sempre pagato, perché questo dopo la quarta volta deve pagare, puniscilo subito che vedrai, poi alla fine, mi ricordo quando giocavo io a Boninsegna ho preso 10 giornate, 9-10 giornate se non ho sbagliato. 10. Eh beh. Tu, buona giornata, le facevi prendere i tuoi stop? Ah, io le prendevano tutti gli atti. Ma hai preso squalifiche, dai, sei sincero. Pochissimo, ho preso 3 giornate in casa col Bari perché c'era dentro mezzo metro il pallone, sono andato dal guardarino e gli ho detto... Qualcosa? L'ho detto sì, quel mezzo metro era dentro e allora lui 3 giornate. Ahahah non è la fine, ma l'ho detto per la domina... Grazie a tutti.